Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le start-up che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marti. Benvenuti o bentornati a The Future Of. Questo è lo spazio dei curiosi di futuro. Io sono Andrea Ferrante e vi racconto le tecnologie, i colpi di genio e le discontinuità che potrebbero diventare grandi e plasmare il modo in cui vivremo domani. Il menu di questa puntata è notevole. Vi parlo di robot per le consegne equiparati ai pedoni, degli esperimenti cinesi di modifica del clima per far piovere e nevicare a piacimento, di un grandioso ritrovamento tecnologico sui fondali del Mar Baltico, di un'applicazione di intelligenza artificiale che ha risolto un problema scientifico che abbiamo da 50 anni e di un incredibile materiale che cattura la luce e la restituisce sotto forma di calore girando un interruttore. E per chiudere, una meravigliosa storia di Tech for Good che cambierà la vita di milioni di persone. Siete pronti? Allora reggetevi forte, allacciatevi le cinture, pronti, partenza, via! Robot pedonali Lo Stato americano della Pennsylvania ha legalizzato i robot di consegna autonomi che ora possono circolare sulle strade equiparati ai pedoni in termini di diritti e doveri, a patto che pesino al massimo fino a 250 kg senza carico e non superino i 20 km orari quando si muovono sui marciapiedi. Li chiamano più propriamente Personal Delivery Devices e sono quei robottini con le ruote che ci dovremo presto abituare a vedere sulle nostre strade, mentre consegnano le merci in ambienti urbani e suburbani. Da noi in Italia li hanno ribattezzati droni a sei ruote, pensando a quelli prodotti da Starship Technologies che è tra i leader ed i pionieri di questa tecnologia. Questi robot usano tipicamente diversi strumenti per navigare le nostre città, telecamere per una visione a 360 gradi, GPS, sensori, giroscopi e software che danno un senso immediato a tutte le informazioni raccolte e spesso sono semi-autonomi, nel senso che possono essere controllati da operatori umani in remoto per risolvere problemi non ancora contemplati dall'algoritmo. Come la storia accaduta a Pittsburgh, dove il robottino si è fermato proprio davanti alla discesa dal marciapiede per i disabili, rallentando una ragazza in carrozzella che ovviamente non ha potuto risolvere il problema chiedendo semplicemente permesso. E se altri problemi pratici devono essere ancora risolti, come salire le scale o aprire un portone, la tecnologia anno dopo anno diventa sempre più credibile a suon di milioni di chilometri percorsi e consegne completate. Ma la legge americana della Pennsylvania ha creato contrasti e dibattito per altri motivi. In primis, il fatto che la legge sia stata spinta da un'attività di lobbying sostenuta da alcuni dei nomi noti del mondo del delivery, che ovviamente ha trovato l'opposizione di quei partiti politici schierati a favore dei lavoratori umani, visto che il drone a sei ruote è stato ribattezzato senza mezzi termini un job killer. Come sempre, quando si parla di lavoro e tecnologie disruptive, il saldo costi-benefici sulla società non è chiarissimo. Da una parte è paradossale che i robot vadano a togliere spazio proprio a quei lavoratori della gig economy già poco tutelati come i drivers. Dall'altra, siamo in una fase di relazione umana contactless dovuta alla pandemia e quindi un robot che fa le consegne sarebbe perfetto. Non sarà The Future of a risolvere l'annosa questione, tanto che altre critiche sembrano addirittura più efficaci. Avete in mente cosa vuol dire se io andassi contro un pedone con la mia bicicletta o sul monopattino elettrico? Meno di 100 kg a 20 km orari ci faremmo quasi sicuramente male. Figuriamoci se a colpirci fosse un oggetto che pesa come un mezzo frigorifero. Modifica del clima Piove ci lamentiamo, non piove abbastanza ci lamentiamo comunque, fa troppo freddo, fa troppo caldo. Quante volte i fenomeni atmosferici influenzano la nostra vita personale e quella dei business collocati sul territorio. La Cina è una delle decine di paesi che utilizzano il cosiddetto cloud seeding, mal tradotto in italiano semina delle nuvole, per cercare di produrre buone condizioni climatiche per le colture o per prevenire i disastri naturali. In concreto si tratta di spruzzare prodotti chimici come lo ioduro d'argento o l'azoto liquido nelle nuvole dove le goccioline d'acqua si condensano e cadono. Il governo cinese ha annunciato che sta espandendo il suo progetto di controllo del clima capace di creare pioggia e neve artificiali. Martedì il Consiglio di Stato ha previsto che il progetto coprirà presto 5,4 milioni di chilometri quadrati e sarà pronto per il 2025. Tanto per capirci, l'intera superficie della Cina ammonta ad oltre 9,5 milioni di chilometri quadrati. In parte è ovviamente disabitata. I 5,4 milioni del progetto cinese andrebbero a coprire in realtà buona parte delle aree abitate del paese, coinvolgendo potenzialmente centinaia di milioni di persone. L'argomento affonda le sue origini nei lontani anni 40 del secolo scorso, quando il concetto fu sviluppato da un chimico della General Electric. La stessa Cina oggi è in fase di sperimentazione da oltre 60 anni e, come sempre, con numeri impressionanti. Il progetto impiega oltre 35.000 persone, tanto per iniziare. Nel 2018 la Cina ha speso 168 milioni di dollari per un'enorme fornitura di attrezzature per facilitare il progetto, tra cui 4 aerei e 897 lanciarazzi. Il Ministero delle Finanze cinese ha voluto utilizzare la semina delle nuvole per creare almeno 60 miliardi di metri cubi di pioggia supplementare ogni anno entro il 2020. Nel gennaio 2019 i media statali hanno riferito che le tattiche di semina delle nubi nella regione occidentale dello Xinjiang hanno impedito che i raccolti subissero il 70% dei danni causati dalla grandine. Insomma, anche senza cedere al complottismo delle scie chimiche ed altre stupidaggini mainstream, è poco ma sicuro che sopra le nostre teste accadono cose che non ci sono chiarissime e delle quali non conosciamo bene gli effetti a lungo termine. Enigma sottimari Come sapete, ho una passione per le tecnologie futuristiche del passato che classifico sotto la meravigliosa dicitura di Retrofuture e allora non potevo farmi scappare l'incredibile notizia che vi sto per raccontare. Alcuni subacquei che setacciavano il Mar Baltico alla ricerca di reti da pesca perse sui fondali si sono imbattuti in uno dei reperti più rari della storia del Novecento, una macchina di cifratura Enigma usata dai nazisti per codificare i messaggi segreti durante la Seconda Guerra Mondiale, arrugginita ma praticamente intatta e emersa dalle acque alla stregua di un bronzo di riace o di un'antica anfora. Il dispositivo elettromeccanico fu ampiamente utilizzato dall'esercito nazista per criptare le comunicazioni che tipicamente venivano trasmesse via radio in codice morse. Tre o più rotori sul dispositivo utilizzavano un cifratore a flusso per convertire ogni lettera dell'alfabeto in una lettera diversa. L'Enigma aveva l'aspetto di una macchina da scrivere. Un operatore usava i tasti per scrivere in chiaro e il testo si trasformava in testo cifrato. Le chiavi cifrate venivano modificate utilizzando una serie di impostazioni dell'apparecchio che venivano modificate regolarmente utilizzando liste rese disponibili in anticipo. Le persone che ricevevano i messaggi dovevano utilizzare le stesse chiavi dei mittenti per poterli leggere. Principi ancora in uso ai nostri tempi. Ma la storia di questa macchina è simbolica anche perché furono quel genio di Alan Turing e di il suo team a capire un concetto fondamentale. Una macchina non poteva essere battuta da un uomo ma solo da un'altra macchina. È la storia di Colossus che ho raccontato nella puntata 37 di questo podcast. Un'invenzione che ha salvato migliaia di vite e probabilmente ha anche accorciato la durata di una maledetta seconda guerra mondiale che sembrava non finire più. È un ritrovamento incredibile se pensiamo che all'inizio i sub pensarono di essersi imbattuti in una semplice macchina da scrivere. Chissà quale intuizione li ha portati a raccogliere quell'oggetto invece di lasciarlo sui fondali. Ora la macchina verrà salvata. Se ne occuperà lo State Archaeological Museum tedesco che prima condurrà un complesso lavoro di desalinizzazione che durerà almeno un anno e poi, dopo gli adeguati restauri, la esporrà a memoria di una delle storie di tecnologia più affascinanti del secolo scorso. AI e proteine Abbiamo spesso detto che l'intelligenza artificiale può essere un ottimo strumento per risolvere problemi complessi. Ecco un recente successo che apre a prospettive importanti nel campo della biologia e della medicina. Le proteine sono i motori di base che fanno lavorare le nostre cellule. Iniziano come stringhe di aminoacidi, immaginate le perline su una collana, ma presto si ripiegano in una forma tridimensionale unica. Per continuare la similitudine pensate di accartocciare la collana di perline in mano. Questa forma tridimensionale è fondamentale perché determina il funzionamento della proteina. Per uno scienziato che sviluppa un nuovo farmaco, conoscere la forma della proteina lo aiuterà a trovare una molecola che può legarsi ad essa, inserendosi nella proteina per alterarne il comportamento. Il problema è che prevedere quale forma assumerà una proteina è incredibilmente difficile. È quello che i biologi hanno definito da oltre 50 anni il protein folding problem. Ora, DeepMind dice che il suo sistema di intelligenza artificiale chiamato AlphaFold lo ha risolto. AlphaFold è in grado di prevedere con impressionante velocità e precisione in quali forme si sarebbero ripiegate le stringhe di aminoacidi. Questa intelligenza artificiale quando commette errori in genere si limita alla larghezza di un atomo. Questo è paragonabile agli errori che si commettono quando si fanno esperimenti fisici in laboratorio, solo che questi sono molto più lenti e quindi più costosi. Perché è importante andare più veloce? Perché si possono sviluppare più rapidamente nuovi farmaci. Può aiutarci a capire le malattie poiché molte come il morbo di Alzheimer per esempio sono causate proprio da disfunzioni delle proteine. Ma potrebbe essere utile anche per farci scoprire in poco tempo quali delle attuali sostanze già autorizzate per l'uso sugli uomini sono in grado di sconfiggere nuovi virus o malattie sconosciute. E visto che stiamo vivendo la più grande pandemia dell'era moderna non credo che serva rimarcare quanto questo aspetto possa essere importante la prossima volta che ci imbatteremo in qualcosa di ignoto. Catturare il sole Il mondo della ricerca questa settimana ci offre un altro spunto strepitoso. Stiamo parlando di stoccaggio dell'energia. I ricercatori dell'università di Lancaster che studiavano un materiale cristallino chiamato MOF hanno scoperto che ha proprietà che gli permettono di catturare energia dal sole. Energia che può essere immagazzinata per diversi mesi a temperatura ambiente e può essere rilasciata su richiesta sotto forma di calore. L'uovo di colombo insomma la catturo d'estate e la rilascio d'inverno senza fatica. Il materiale si basa su un tipo di struttura metallo-organica in inglese Metal Organic Framework da cui l'acronimo MOF. Queste strutture consistono in una rete di ioni metallici collegati da molecole a base di carbonio per formare strutture tridimensionali. Una proprietà chiave dei MOF è che sono porosi il che significa che possono formare materiali compositi ospitando altre piccole molecole all'interno delle loro strutture. I pori del MOF sono stati caricati con molecole di azobenzene un composto che assorbe fortemente la luce. Queste molecole agiscono come fotointerruttori che sono un tipo di macchina molecolare che può cambiare forma quando viene applicato uno stimolo esterno come la luce o il calore. Abbiamo capito dove stiamo andando a parare. Questo processo immagazzina l'energia in modo simile all'energia potenziale di una molla piegata. Energia che viene rilasciata di nuovo applicando un pizzico di calore esterno al MOF per cambiare il suo stato. E questo rilascio può essere molto veloce praticamente come una molla che si riavvolge all'improvviso. Accumulo luce là in magazzino quando lo serve le dà una scaldatina e via l'energia ritorna nell'ambiente sotto forma di calore. Per quanto tempo l'energia resta accumulata? Per ora per quattro mesi giusto il tempo che trascorre tra agosto e dicembre ironicamente e quattro mesi sono molti di più dei sistemi similari basati sulla luce che sono capaci di fare storage di energia per appena poche ore o qualche giorno e che fino a oggi funzionano solo se immersi in liquidi. Forse mi emoziono solo io per queste innovazioni ma pensate a ricoprire il tetto o la facciata di un palazzo con questo moff. Il composto cattura per noi senza sforzo e da gratis la luce la immagazzina senza occupare ulteriore spazio e senza necessità di trasportare o trasmettere l'energia ci basta girare un interruttore qualche mese dopo per riscaldare le nostre case a comando. Poi si deve tornare realisti siamo solo al proof of concept l'industrializzazione non è stata ancora discussa i costi non sono chiari ma la promessa è sufficiente per continuare ad esplorare questo campo che per noi profani ha del magico. incubi notturni il mondo dei digital therapeutics si arricchisce di un nuovo affascinante strumento il nightwear un orologio che è in grado di interrompere gli incubi notturni senza svegliare la persona nato dall'ingegno del figlio di un reduce della guerra in Iraq è qualcosa che può affrontare e risolvere problemi legati al cosiddetto stress post-traumatico ora io spero che tutti voi che ascoltate la notte dormiate come degli angioletti ma non è così per milioni di persone che hanno vissuto momenti che non riescono a dimenticare e che affiorano nel sonno e non è solo un fatto di sonno è anche l'attesa da svegli degli incubi notturni che rovina le vite demolendo la forza di volontà dei malati negli USA si stima che questo tipo di incubi colpiscano circa il 4% della popolazione considerato che parliamo di oltre 300 milioni di persone non sono numeri piccoli Tyler Sluzacek il protagonista di questa storia ha partecipato ad un hackathon nel 2015 e partendo da smartwatch esistenti sul mercato a quell'epoca ha programmato un pebble watch per misurare la frequenza cardiaca ed i movimenti del corpo durante il sonno l'orologio inviava vibrazioni al polso di chi lo indossava quando questi indicatori aumentavano segnalando l'inizio di un incubo un segnale abbastanza forte da interromperlo ma non così intenso da svegliare il paziente geniale non solo il padre è guarito ma quello che è successo dopo è ancora più straordinario una clinica si è offerta di condurre tutti i test e gli esperimenti necessari ad ottenere le licenze per considerare la soluzione una vera e propria cura poi il giovane ha portato l'applicazione sugli apple watch l'orologio emette vibrazioni in cicli di 10 secondi aumentando l'intensità per destare consciamente ma non risvegliare completamente chi lo indossa fino a quando la metrica che ha scatenato l'intervento non torna a livelli normali ma non finisce qui Tyler ha condotto un crowdfunding di successo incontrato un advisor che è diventato il CEO della sua neonata azienda e da qualche settimana ha ottenuto il via libera dalla Food and Drug Administration americana l'agenzia ha anche concesso a Nightware lo status di dispositivo innovativo in inglese breakthrough che suona ancora meglio che consente una revisione più rapida dei dispositivi progettati per il trattamento di patologie potenzialmente letali o irreversibilmente debilitanti all'inizio del 2021 Nightware sarà disponibile su prescrizione medica attraverso l'amministrazione dei veterani e di piani sanitari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti gratuitamente per chi lo indossa veterano o militare che sia che cavalcata pazzesca in appena sei anni Nightware non sarà quindi ancora disponibile al pubblico per ora ma se pensiamo a guerre attentati catastrofi ma anche semplicemente alla vita quotidiana di medici che vivono fianco a fianco con il dolore ed il lutto ogni giorno questa apparentemente semplice invenzione è un bellissimo esempio di cosa l'uomo sia ancora capace di fare con la tecnologia la puntata di The Future Of è finita ma non andate via ancora un istante prima di lasciarvi con la frase della settimana vi volevo solo invitare a condividere questa puntata di The Future Of e parlare di questo podcast ai vostri amici colleghi e dagli appassionati di futuro se invece volete parlare con me la mia email è andreamarco.ferrante chiocciola gmail.com Peter Drucker ha scritto fare il futuro è rischioso tuttavia questo è meno rischioso che non cercare di farlo